io faccio il cuoco come si vede dalla mia divisa devo dire sono innamorato di questo lavoro oramai sono 43 anni che sono dietro la stufa è un lavoro che mi dà molto soddisfazione e mi ha dato la possibilità di crescere sia come persona che proprio come livello di operatività tutti i giorni mi alzo con una gran voglia di inventare qualcosa perché di fondo il nostro mestiere è un'arte ci possiamo esprimere con quello che vogliamo i nostri materiali sono la materia prima la carne e pesce i dolci il zucchero la farina in conseguenza abbiamo tantissime opportunità per elaborare qualcosa che poi verrà somministrata ai nostri avventori nei nostri locali e sicuramente il nostro la nostra idea è quella di farle vivere un momento di gioia in questa vita frenetica lo consiglio vivamente questo mestiere perché è un mestiere che dà tantissime opportunità si ampliano le conoscenze di base e comunque si dà l'opportunità di poter girare il mondo di fare conoscenze e scoprire culture differenti da bambino mi sarebbe piaciuto fare proprio il cuoco vengo da una famiglia dove comunque sia nonna che mamma avevano l'abilità di preparare manicaretti ravioli tutte queste cose fatte in casa di conseguenza sono sempre stato molto preso da questo mestiere e poi ho avuto uno zio chef che ha avuto il ristorante fino a un decennio fa molto conosciuto oltretutto da quando andavo a trovarlo ero affascinato da dal mondo della cucina proprio della ristorazione padelle cibo da tutte le parti conseguenza sono nato per fare il cuoco